Eccoci qua, siamo ritornati in studio. Presidente Zilio, attrattività per i giovani, che cosa vuol dire? Perché certe città ci riescono e qui stentano? Alcuni hanno detto che ci sono, cosa vediamo immagini anche della stazione di Padova, quindi riguarda la sicurezza, che ci sono negozi vecchi, che locali non si sono molti, non si sono rinnovati. Interroghi i titolari di questi operatori, questi titolari dicono eh ma io con tutte le tasse che devo pagare non ho da investire, eccetera. Però in altre realtà, in altre città hanno innovato, per esempio anche Trieste, che era una città per vecchi da vecchi, è diventata una città molto giovane. Io non sono così pessimista, nel senso che ho due cose da dire. Uno che si parla di Bologna prima e di Padova come università. Sono due università completamente diverse. A Padova si viene per studiare, attenzione. I giovani che vengono a Padova vengono a Padova per studiare. Sono difficoltà, facoltà molto complesse dove si viene per studiare. Pensiamo di ingegneria, piuttosto che a medicina, piuttosto che a... Perché se no si va in un'altra università. Molti vanno da un'altra parte a studiare. Si divertono e studiano. Qua a Padova succede anche questo, ma soprattutto si viene per studiare. E quindi lo studente è un studente già diverso. Sono venuti ai tempi del 68. Se ricorderete qualche... un anno fa, un anno e mezzo fa, a Bologna ci sono state delle forti contestazioni all'interno dell'università, a Padova non sono avvenute. È cambiata l'università di Padova. Io non sono proprio così pessimista, non vedo una città così deserta. Vedo una città che in proporzione alla sua dimensione è una città viva rispetto ad altre città del Veneto. Vedo una città che ha rispetto a Verona per esempio il 20-25% dei negozi in più. Lo sanno in pochi questo. Padova è una città che ha più negozi rispetto a Verona. Verona ha alcune vie dedicate al commercio, altre sono tutte vie con tanti portoni che di abitazioni private. Belle, bellissime vie, ma senza negozi. Padova, grazie ai portici, ha una maggiore attrattività commerciale, quindi molti più negozi. Io quindi sono ottimista. Cosa si può fare per migliorare? Allora, questa è un'altra partita ancora. Guardate, abbiamo le piazze che sono straordinarie. Se guardiamo la sera sono tavolini da tutte le parti, ci si è movimento, si è ridotto un po' il fenomeno dello spritz che era diventato un po' come dire anche esagerato. Quindi la città va vissuta con un'ottica più positiva. Cosa bisogna fare? A mio avviso bisogna creare una città più smart, più intelligente, delle aree per i giovani più innovative. Diceva per analizzare forzatamente. Bisogna dare la banda larga, libera, ai giovani che possano comunicare nelle nostre piazze con wifi libero. Bisogna creare delle condizioni dove possano interagire con un'altra parte del mondo, con degli schermi, con tutte le operazioni innovative che abbiamo in mente. Ne abbiamo parlato, parlava prima Gianni Potti, della Smart City e della Soft City. Quindi iniziative che possano diventare, fare la differenza rispetto ad altre città che sono più ferme. Perché poi il resto c'è Milano, non c'è null'altro in Italia. Quindi questo dobbiamo immaginarlo, dobbiamo essere noi e derivare primi perché abbiamo le condizioni, perché questa città ha vocazione di innovazione. Quindi io credo che non sono così spaventato. Per l'e-commerce invece sono un po' più spaventato. Per l'e-commerce, per i bitcoin, anche questo. Abbiamo visto l'altro giorno forse una fantasia, ma diceva qualcuno, vieni nel mio ristorante e poi mangiare le ostriche pagandole con la moneta virtuale. Non è da scherzare, dobbiamo prepararci perché tra un po' di tempo anche questo sarà un altro segmento che ci creerà qualche problematica. Nulla di grave perché il mondo è sempre in evoluzione e noi dovremmo essere al passo con i tempi. L'e-commerce è una questione più complessa che può mettere a rischio il negozio tradizionale. Io so che ci sono delle catene, per esempio, anche presenti nella nostra città che si stanno preparando in modo innovativo alla sfida dell'e-commerce, che non è più quello di Amazon, ma un e-commerce più, come dire, organizzato all'interno di catene, interattivo, quindi con vetrine virtuali, dove uno potrà fare gli acquisti passeggiando per la città piuttosto che entrando in questi luoghi. e noi su questo dovremmo essere più attenti. Ecco, questa è la condizione. Poi sulla sicurezza, guardi, anche la sicurezza. Voglio dire, le città italiane vivono di problematiche, indubbiamente. La sicurezza è un fatto anche molto percepito. Io non mi sento di dire che in centro storico a Padova ci sia questa grande situazione di emergenza. È vero in alcuni quartieri, sì. La zona della stazione, dietro la stazione. Però questo, trasmesso e moltiplicato... Però anche in centro storico, hai parlato con commercianti che a una certa ora in centro storico hanno passito loro dentro. Stavo dicendo questo. Se passa il messaggio che la città è una città pericolosa, una città degradata, una città, invece, non è vera, è una città bellissima, lo vediamo, insomma. Ecco, la gente non esce più. E quindi noi prestiamo il fianco al degrado e all'insicurezza. Quindi è di dare una comunicazione più positiva, quindi ritornando al discorso di positiva. Ma certamente sì, perché non è così. Infine, perché io vado in centro storico alla sera, io cammino per il centro storico alla sera. Io, fino adesso, per fortuna mia, non è che ho avuto dei grandi, come dire, dei grandi incontri così pericolosi. Sicuramente ci sono stati degli eventi non piacevoli, come succede purtroppo oggi come oggi in tutto il mondo e forse meno nel nostro territorio. Noi, ripeto, moltiplichiamo questi eventi e qualche genitore che deve iscrivere il suo figlio, magari dalla Sicilia, nelle strade di Padova, dopo che passano questi messaggi, preferisce iscriverlo in un'altra università. Già questo, penso, sia un segnale negativo per il nostro territorio. Quindi, insieme, dobbiamo costruire dei percorsi che vanno anche verso l'eliminazione della percezione negativa della sicurezza con delle azioni forti. Servono quindi azioni assolutamente. che vuol dire investire bene, come diceva l'amico prima, le istituzioni investano bene perché nel nostro territorio arrivano arrivi attrattivi, cioè che diventi attrattivo per investimenti da da fuori. Quindi noi dobbiamo avere paura che gente da fuori vengano a investire nel nostro territorio, in modo particolare per quanto riguarda il campo dell'innovazione, sul quale con l'università, le categorie economiche, stiamo lavorando. Quindi lei si rifà un po' quanto diceva il Presidente Potti, aziende innovative che vengono nel nostro territorio. Questo può essere una leva per i giovani oppure a volte un boomerang, secondo lei. Faccio riferimento a tutte quelle aziende del settore anche innovazioni, multinazionali, straniere, che sono arrivati in alcune realtà italiane che poi se ne sono anche andate via lasciando centinaia di persone senza lavoro o giovani con un'occupazione mal retribuita. Devo sempre lanciare quelle qui di un po' di criticità. Parliamo di cose reali, mi pare giusto. Ma allora, intanto, se un'azienda importante e seria viene a investire nel territorio lo vedo come un fattore di competitività utile. Certamente, se uno viene mordi e fuggi per distruggere un'azienda e poi licenziare le persone, beh, credo che questa sia la parte negativa dell'economia. Però in generale... Su cui dovrebbe lavorare però il governo? Su questa piccola considerazione? Sì, poi mi aggancio anche al tema di Amazon, visto che si parla di Amazon, allora io sono strafavorevole a una visione globale del commercio come di qualsiasi altra cosa. Oggi non possiamo essere chiusi, ci mancherebbe altro che non lo dicessi io. Però a regole uguali. Perché se questi pagano non pagano le tassi in Europa e in Italia, se questi sfruttano, ecco che mi aggancio a quello che dicevi sul personale delle famose polemiche su Piacenza, i magazzini, ecco, allora a regole uguali mi va bene, il limite nostro, ma mi pare che l'avessi detto già tu prima, che in qualche modo non riusciamo a fare squadra, cioè i nostri commercianti sono sostanzialmente diffidenti. Oggi, vuol dire, il salone, sono 70 commercianti, quanti sono? Possibile che non si mettano insieme e costruiscono un brand forte del salone. Dico il salone perché è il primo supermarket della storia, come io ho detto stesso. Dopo lei risponderà a questo. Quindi, il mio giudizio è molto simile a quello di Ziglio, cioè, io ho una lettura positiva della città, fra un mese, due mesi, appena sarà meno freddo, le piazze, se Dio vuole, saranno inondate di ragazzi, di giovani, ma migliaia, chi percorrerà i navigli vedrà anche lì tantissimi ragazzi, cioè, ve lo dire, è una città mediamente giovane rispetto a altre città che giro per l'Italia, molto più vecchie, molto più chiuse, molto più, quindi abbiamo ancora un vantaggio competitivo, però, valgono le parole iniziali, o, in qualche modo, davanti all'innovazione, davanti a tutto quello che sta di nuovo, decidiamo di surfare l'onda, di salirci sopra e capire cosa sta accadendo, bitcoin, ha detto Ziglio prima, blockchain, tutte queste cose qui, non sappiamo esattamente cosa siano e le temiamo, bene, cerchiamo di capire se ci vogliamo andare sopra l'onda o essere travolti dall'onda, dobbiamo avere la capacità, lo sforzo e ci sono tutte le risorse per sfruttare il tutto e insisto che il futuro della città sta nella trame aziende, quindi, benissimo, ma questo è un beneficio anche per il commercio, per l'artigianato, se non arrivano aziende non c'è lavoro, non c'è pil e non ci sono posti di lavoro per i giovani, il passaggio è tutto lì, quindi bisogna avere veramente coraggio, noi abbiamo questo progetto come Camera di Commercio, come associazione di categoria, anche con esercenti aderisce, della Soft City, cioè dove sono insediate le nostre aziende, dove c'è perfino Triveneta, guarda caso, è un'area che velocemente, ma non possiamo più attendere i tempi della politica, cioè oggi il vero tema è che l'economia corre a mille, la politica va a 50, a 100, troppe polemiche, noi vogliamo fatti, adesso io registro due o tre cose interessanti, che pare che parta il tram, e questo per noi è un fattore di competitività importante, pare che parta l'ospedale ed è un'altra cosa positiva, ci sono gli investimenti della Camera di Commercio in arrivo, quindi è una stagione particolare, ma non so quanto durerà, nel senso, sfruttiamola velocemente, prendiamo l'idea, Fernando Ziglio prima ha parlato di progetti di 20 anni, nel mondo si programma da 20 a 30 in su, questo è il progetto, quindi benvenga il progetto da Confesercenti, a patto che dietro a questo poi la politica sia presente e realizzata. Ma 20 anni sono già tanti, però 20 anni sono tanti, sono tantissimi, però bisogna, attenzione, noi abbiamo bisogno di cose a breve, cioè in sei mesi, sul tavolo del vice sindaco c'è una scaletta a sei mesi di cosa si può fare per la South City, sei mesi vuol dire da qui all'estate, volendo, e ci sono interventi immediati, poi ci sono interventi a medio che noi pensiamo a 5 anni e quelli sul futuro che impegnano a 20, quindi io li dividerei in tre categorie, a breve, a medio e a lungo termine. l'interporto è stata una programmazione a 20-30 anni, ma erano tempi diversi. No, 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 è uguale adesso, sulle programmazioni non cambia niente. di Lettori Ponte recentissimo che ha dato nuova dimensione all'interporto. sulle programmazioni non cambia niente, sempre 20-30 anni. questa direttrice che è emerso. Ma io credo che il tema della risposta sulla velocità che ci viene richiesto c'è, una risposta immediata, perché il cambiamento è più veloce. Quindi è una politica che rallenta sostanzialmente. O non ha completamente le idee chiare o mi verrebbe da dire non sempre è di fronte a cosa ha bisogno veramente il cliente, cosa che invece oggi l'economia chiede, cioè a partire anche dagli acquisti non si decide più in fabbrica o in negozio cosa vendere, ma parti dal cliente cosa vuoi e cambi tu il modo di gestire la vendita, il prodotto ed è su quest'ordine di idee che bisogna andare a customizzare tutto, personalizzare tutto perché oggi il cliente è esigente e l'impresa deve diventarlo sul piano delle risorse che deve far crescere in termini proprio di human capital che sia in grado poi di rispondere a quanto il mercato chiede le esigenze che sono in velocissimo cambiamento. Ecco, questo sì. E non sempre questo si coglie. Penso anche a partire dalle famiglie. Questo è un tempo di scelta per molte famiglie che sceglieranno la scuola superiore e io dico non scegliete per i vostri ragazzi con i crismi con cui avete scelto per voi perché il mondo è cambiato cioè si studia per un lavoro che non sarà quello per cui stai studiando ma sarà altro un lavoro che ti inventerai che creerai perché il mercato cambia velocemente. Ecco, le hai toccato un tema importante risposta anche a questo. Le aziende lamentano che nei nostri territori non c'è una risposta da parte dei giovani a quelle che sono le esigenze delle realtà del mondo del lavoro per cui c'è uno sfasamento dei piani tante posizioni aperte che non riescono ad essere ricoperte perché non ci sono abbastanza tecnici perché la maggior parte puntano a un percorso già elevato senza fermarsi a una formazione tecnica che oggi è richiesta e che ti porta comunque a percorsi professionali elevati anche manageriali cioè una formazione tecnica non ti esclude un percorso di carriera manageriale questo vuol dire che più una scuola un istituto forma persone ad hoc più può esserci anche un territorio attrattivo per gli investimenti Roberta Callegaro sa benissimo mi scuso se vi interrompo che in Europa sono richieste 800.000 figure nell'IT da qui al 2020 c'era domani e quindi o le formiamo in casa e non saremo in grado di formarle o dovremmo andare a prendere come mi dicono molti colleghi in Ucraina in Albania e da altre parti questo è un problema molto molto serio e paradosso non per colpa dell'università ma perché non ci sono aule e docenti quest'anno è stato messo il numero chiuso a informatica quindi siamo in questa situazione delicatissima bisogna coprire secondo me questi 2-3 anni di buco che abbiamo su quello che non si è programmato per tempo parto da questo presupposto molte volte nel terminare il quinquennio nel scegliere l'università uno dice scegli quella facoltà perché troverai il lavoro bisogna mettersi in testa che noi non siamo in funzione del lavoro che dobbiamo trovare noi dobbiamo fare l'università perché abbiamo voglia di fare se a me piace far teatro io devo far teatro perché mi piace è inutile che io faccia ingegneria potrei essere un ingegnere ma sono un ingegnere che vale poco conviene essere un attore allegro e spensierato ma non io devo fare anche l'università io devo fare le cose a cui io sono portato non che l'industria ha bisogno nel contesto generale se facciamo questo avremo veramente delle persone che hanno fatto all'università determinate facoltà che sono felici di averle fatte che dopo quando uno è capace salta sempre fuori il lavoro la sussistenza salta sempre fuori quindi a Padova dobbiamo dare un impulso straordinario è giusto soprattutto alle università abbiamo tanta mia persone giovani il futuro è dei giovani quindi noi dobbiamo incanalarli sì occorre tecnici ma se a me non mi interessa niente di fare il tecnico lei dice quindi seguire un po' più quelle che sono le propensioni delle persone ma bisogna seguire le propensioni nel senso quindi l'università sia una roba straordinaria è Padova la gara incentivemo all'università determinati corsi in funzione adesso una volta i fasi a tutti i dentisti perché facendo il dentista se ciappava tanti soldi ma insomma sì ma adesso abbiamo tanti scienze della comunicazione non so che cosa si ma però vedere la gente che faceva il dentista non perché depiaseva fare il dentista ma in funzione dei soldi che gli ciappava quindi mettiamo mi fa un discorso un po' più siccome che il futuro si è dei giovani e l'università di Padova si è straordinaria demogli la possibilità sì di un posto di lavoro ma soprattutto deve fare quello che depiase fare la realizzazione di se stessi vediamo se questa è una chiave di lettura per migliorare perché se no te credi i desadattati concorda sì sì allora sul discorso sociale concordo al cento per cento mettere una persona a fare una cosa che non gli piace poi significa che tra dieci anni sarà seduto in un posto di lavoro e non sarà proattivo non sarà disposto neanche a spiegare le cose imparate ai propri colleghi e via dicendo però dal punto di vista universitario e dal punto di vista della formazione secondo me è corretto iniziare a pensare anche a diversi tipi di università nel senso in altri paesi si sta pensando a percorsi innovativi università innovative per cui adesso iniziano ad essere un po' antiquati certi corsi da noi che per cinque anni ti spiegano tutta la fisica ti spiegano tutta la psicologia ci sono dei percorsi che si possono fare in tempi più brevi o magari dei master magari dei corsi differenti post universitari che possono rispondere a esigenze che è il mercato del lavoro quindi devi innovare anche una struttura un luogo di studio così si innova anche il modo di concepire una città di vivere le persone stesse sono più motivate e poi il sistema duale alternanza scuola-lavoro questo abbiamo bisogno ma soprattutto a Padova ho tanti miei studenti ma anche un assessorato all'università e esi un quinto di apocoessio un quarto di apocoessio proprio la delega alle politiche giovanili si ma la delega alle politiche giovanili si bea ma anche in modo tanti miei studenti fermano un assessorato all'università ai progetti futuri che magari appunto perché futuri ha delle determinate difficoltà ma pian piano dentro se riesce sempre arriva per agire perché sembra una volta che ci sia una scissione tra il mondo della cultura appunto universitaria nella fattispecie poi ci sono tanti istituti superiori tecnici eccetera e quello delle attività produttive del commercio ci può essere invece un'interazione può essere un modo per vitalizzare per dare e quindi per rispondere a queste nuove esigenze che ci sono c'è un potenziale forse non considerato secondo lei Francesco è quella che diceva già anni prima occorre un'enternanza scuola lavoro abbastanza efficace ma soprattutto c'è questo aspetto qui dovremmo ragionarci un attimo sempre di più le aziende oggi viaggiano a una velocità un po' più rapida rispetto a qualsiasi sistema scolastico non solo Padova è uno dei migliori però permettimi di buttare lì un altro argomento perché altrimenti corriamo il rischio di solo per essere chiari Padova è una città bellissima e sono d'accordo anch'io su tutto quello che si diceva per quanto riguarda l'offerta e la capacità di attrazione però l'obiettivo e la sfida non è solo questa io credo che sia importante che noi continuiamo ad essere una città che ha un'attrattività di grande spessore anche rispetto ad aziende e questo è fondamentale questo è uno degli aspetti su cui non si discute altrimenti che Padova la domenica il sabato e anche tra settimana sia piena di giovani e anche meno giovani è altrettanto vero il tema che mi pongo io che ci poniamo noi come organizzazione è questo io parto dal corso Umberto e comincia ad esserci un po' di gente arrivo in via Roma non riesco neanche a camminare quando arrivo davanti al BOA al municipio e fino all'inizio di via Sanfermo è stracolmo di gente se vado e mi trasferisco verso Piazza delle Erbe trovo già un po' di gente tanta se poi vado verso via San Francesco via del Santo via Battisti tutta questa zona scusatemi ma anche la domenica pomeriggio non c'è nessuno ma anche quando si fanno dei grandi eventi non c'è nessuno ecco che allora il problema non è quello di avere una capacità di attrazione in determinati momenti e in una determinata area delle città la vera sfida quella che si deve lanciare è questa perché l'economia di una città si sviluppa in tutto il territorio delle città io devo creare dei momenti di attrazione continua continua anche in questi punti e l'attrazione continua non può essere perché c'è un percorso scusate ma oggi sono agevolato perché storicamente il percorso pedonale parte dal parcheggio di Prato della Valle e arriva dall'altra parte e agli altri parcheggi verrà interrotto quel percorso sì certo verrà interrotto speriamo di no speriamo di no ma credo che ci sia la necessità di creare dei momenti guardate che anche tutte le chiamiamole così le catene o i grandi gruppi commerciali che sono intervenuti nel centro storico hanno scelto questa strada o l'inizio di via alternata stop sono scinti da poco da questo percorso abbiamo la necessità di creare tutta una serie di attrazioni continue quando prima parlavo dei ragazzi che vanno fuori la sera guardate che il portello è pieno di gente da lunedì al giovedì il venerdì ci sono due tre locali che lavorano il rimanente è deserto totale venerdì sabato e domenica ed è carino adesso il portello ed è molto carino anche perché c'è questa presenza che ha scacciato è scacciato un fenomeno molto diffuso al portello fino a qualche tempo fa c'è ancora qualcosa quindi io credo che effettivamente è questo l'obiettivo e questo obiettivo lo facciamo sicuramente con i grandi progetti e su questo dobbiamo lavorarci insieme e tra l'altro io credo che il lavoro fatto negli ultimi cinque anni da Ziglio da questo punto di vista di liberare alcune partecipazioni e recuperare risorse sia stato e sia molto positivo io devo dare atto a Fernando perché io non credevo che ci riuscisse che ci è riuscito quindi gli diamo anche atto di questo c'è una certa disponibilità sul quale scusa Fernando ma credo che dovremmo anche discutere un po' con un altro ente che comunque ha dei soldi che storicamente arrivano dal pubblico che è la fondazione della Casa di Risparmio arrivano da un patrimonio comunale questi no? quindi dovremmo ragionare sempre se è giusto intervenire in determinate direzioni e in che modo i nostri rappresentanti possono dare una mano perché sì ci sono delle risorse che vanno indirizzate su tutti questi settori su tutti questi fronti sia per quanto riguarda la capacità di organizzare al meglio la competitività di Padova come attrattore di aziende e come attrattore di turisti e di altre di visitatori ma un po' di spargere un po' dall'altro anche la necessità di non limitare la bellezza della città e la fribilità della città in determinati percorsi perché tutto è rimanente quindi abbiamo un rischio che diventino un garage non so se sia questo oppure dei negozi vuoti senza poi avremo chi chi abita nelle immediate periferie perché senza parlare della città però permette anche di dire a dare a Gianni che su questo punto di vista è uno che leggo quotidianamente perché mi piace quello che quotidianamente no perché non scrive quotidianamente ma insomma tutto quello che scrive oggi io credo che innovazione abbia delle caratteristiche diverse troppo spesso ci premiamo e pensiamo che innovazione significhi sostanzialmente la grande innovazione tecnologica la grande capacità di dare ecco tutto questo è importante però innovazione oggi significa riuscire a trovare strumenti che garantiscano ai meno giovani ai giovani condizioni e qualità della vita migliori perché altrimenti non è innovazione scusatemi un'altra cosa io credo che questo sia l'obiettivo che dobbiamo darci e quindi innovazione deve essere tutto quello che persegue questo tipo di obiettivo che può essere tecnologica sicuramente ma anche nei servizi anche nel nostro nella nostra progettualità nel nostro modo di concepire le cose se io tolgo il negozio di alimentari lo butto lì perché poi mi piace essere franco trovo il negozio di alimentari in un quartiere e costringo quelli che hanno lavorato fino a sera o il pensionato che non ha la mobilità diffusa è qualità della vita quella nel momento in cui l'ho portato via perché costava un po' di più non era competitivo io credo che innovazione significa anche garantire questo tipo di servizio nelle zone no? nelle città se posso fare una battuta su quello che dice Maurizio poi vi do la parola condivido al mille per mille mi pare un aspetto decisivo allora solo per dire Maurizio che i tedeschi hanno pensato a industria 4.0 pensando solo a profittabilità e diciamo ottimizzare la catena di montaggio e ridurre i costi questo è l'approccio tedesco l'approccio giapponese a me piace molto è questo di Society 5.0 è quello di dire ma perché portiamo tutta questa tecnologia nelle nostre vite per avere delle smart city e delle vite personali delle persone migliori quindi la chiamano human driven quindi dedicata all'uomo cosa significa detto in concreto che io grazie alla tecnologia devo fare meno fatica meno code preannotarmi gli esami facilmente all'ospedale pagare di meno socializzare di più cioè avere una serie di servizi che ci può dare la tecnologia quindi ripeto quello che ho detto prima al costo di essere noioso surfiamo l'onda chiediamo anche a chi è più anziano di alfabetizzarsi di non chiudersi rispetto alla tecnologia ma provare a sforzarsi e ci sono le forme le fa il comune le fanno altri enti l'ENAIP è bravissimo su questo per avvicinarsi e rendere accessibile perché uno dei gap che al nostro paese Padova c'è dentro è che ancora siamo terzultimi penultimi solo Bulgaria e Romania ci stanno dietro in Europa per l'utilizzo delle tecnologie digitali e questo se gestite bene non devono spaventare ma migliorare la nostra vita assolutamente torniamo su questi temi che appunto volevo un po' lanciare la provocazione anche lei che è come commerciante ma andiamo dopo la pubblicità dai pochi secondi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti